È una madre vera, con il volto segnato, una madre che soffre perché prende davvero a cuore i problemi della nostra vita. È una madre vicina, che non ci perde mai di vista. È una madre tenera, che ci tiene per mano nel cammino di ogni giorno. Questo vi auguro di sperimentare nel solenne giubileo che state celebrando, sia il momento favorevole per sentire che nessuno di noi è orfano in questo mondo di orfanezza. Nessuno di noi è orfano perché ciascuno ha vicino a sé una madre, regina insuperabile di tenerezza. Ella ci conosce e ci accompagna con il suo stile tipicamente materno, mite e coraggioso al tempo stesso, mai invadente e sempre perseverante nel bene. Paziente di fronte al male e attivo nel promuovere la concordia. Paziente di fronte al male e attivo nel promuovere la concordia.